Ma un articolo bellissimo, bellissimo ha scritto Tim O'Reilly, che sapete a me piace molto, autore, storico, oracolo della Silicon Valley, ha scritto questo articolo e fa notare questo concetto del a poco a poco e poi improvvisamente. In inglese l'articolo si chiama Gradually and then suddenly. Se ci guardiamo in giro ci rendiamo conto che è così, c'è una marea di tecnologie che sono in circolazione, un pochino alla volta, invisibilmente e poi all'improvviso... Grazie.